Un cordiale saluto dalla redazione di Florence TV, in studio Marco Gargini. In Fippile, 4 km di coda per un incidente ora risolto tra Montelupo-Fiorentino e La Strassigna, verso Firenze. Per lavori tra Ponte d'Eraest e Montopoli-Valdarno, 2 km di coda verso Firenze e rallentamenti verso Livorno. 1 km di coda in direzione Livorno per lavori tra La Strassigna e Ginestra-Fiorentina. Rallentamenti tra Scandici e Firenze-Scandici in direzione Firenze. In A1 verso Bologna per lavori corsie interne chiuse tra Firenze-Sud e Firenze-Scandici e 2 km di coda sulle corsie di destra tra Firenze-Sud e Firenze-Scandici. Sempre verso Bologna rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti tra Aglio e Calenzano-Sesto-Fiorentino e rallentamenti per un incidente tra Incisa-Reggello e Valdarno. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!